Restare umani sul posto di lavoro significa dare voce a quelle lavoratrici e quei lavoratori che credono in un mondo del lavoro partecipato, un mondo del lavoro che tenga conto dei diritti delle persone. Restiamo umani è la campagna di sensibilizzazione dell'associazione di categoria del sindacato Will dedicata ai settori del turismo, del commercio, della cooperazione e dei servizi, la Wiltux. L'iniziativa contestuale a un convegno organizzato l'11 dicembre pone al centro il problema della liberalizzazione degli orari commerciali che costringe i lavoratori del settore ad essere impiegati anche nei giorni festivi, una situazione molto sentita soprattutto nelle città turistiche. La campagna lanciata nel novembre 2022 vuole sottolineare che prima di essere lavoratori occorre ricordare di essere umani considerando le esigenze personali di tutti coloro che operano nel settore. L'esigenza di dare risposte diverse, cioè di costruire una strada che aiuti a capire che nel mondo del lavoro sia le lavoratrici e i lavoratori ma soprattutto le aziende possiamo vivere all'interno di una qualsiasi azienda rimanendo umani e comportandoci umanamente senza pensare che c'è chi viene sfruttato e chi sfrutta a priori.